La quattrodicesima edizione di Cortona on the Move si chiuderà il 3 novembre, quindi restano solo due giorni alla conclusione di questa edizione che ha riscosso un grande successo di pubblico. Abbiamo quasi raggiunto i 26.000 visitatori e speriamo di superarli in quest'ultimo weekend. È l'ultimo fine settimana per il Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move che ha portato in Valdichiana 22 mostre diffuse di cui 4 collettive e 18 individuali. Tema centrale dell'edizione 2024, il corpo nelle sue molteplici forme ed espressioni. Un tema messo immediatamente in chiaro dalla mostra The Body as a Canvas all'interno della sezione C di Camucia. Si nasce da un'idea di Paolo Vuzzi, il direttore artistico del Festival, e da Lars Lindemann, un curatore tedesco che collabora con il Festival da ben tre anni ed è diventato anche curatore internazionale di Cortona on the Move. Questa mostra mette a centro appunto il tema del corpo come tela, esplorando un po' quella che è la storia del tatuaggio circa dal 1900 fino ai nostri giorni, da diversi punti di vista e soprattutto andando ad analizzare quelle che sono le diverse culture del tatuaggio. Il tatuaggio che viene in qualche modo anche negato completamente, non viene accettato, considerato anche un peccato da alcune religioni, e che invece oggi è una forma d'arte diffusissima e ben accettata e utilizzata. Quindi questa mostra in qualche modo unisce in maniera organica una ricerca antropologica, immagini d'archivio, immagini storiche e anche immagini di sito fotografi, e a lavori documentari di ben 11 artisti insieme a immagini d'archivio grazie alla cortesia del Library Congress di Washington DC. È importante perché questa mostra si svolge in un luogo inconsueto, diciamo così, è un ex magazzino delle ferrovie che viene riqualificato e viene adibito a spazio d'arte. Quindi l'ambivalenza è duplice proprio perché abbiamo la possibilità di fruire di uno spazio non comune, ma soprattutto con all'interno una mostra d'arte, che sono due mostre d'arte in un certo senso, perché una è l'aspetto fotografico e l'altro aspetto decorativo, le tatuaggi, che è appunto delle figure che vengono immortalate. Chi arriva alla stazione può trovare il primo step proprio qui in questo luogo, poi proseguendo fino a Cortona, centro storico e alla fortezza. Quindi è un itinerario molto importante, le risultanze dei visitatori sono davvero eccellenti, e noi siamo soddisfatti di aver sponsorizzato anche quest'anno Cortona on the move.